Oggi abbiamo scelto di presentarvi il Barolo della Cantina di Bersano. La Cantina di Bersano da più di 80 anni produce vini di grande qualità, con un occhio alle tradizioni del passato ed uno al presente. È la zona delle Langhe, una zona tra le più affascinanti e straordinarie d'Italia dal punto di vista paesagistico e naturale. Il Barolo di Ocigi è il grande vino italiano per eccellenza, il re dei vini, ottenuto da uve nebbiolo in purezza. A rendere importante il Barolo è la sua struttura, che esprime un bouquet complesso e avvolgente, in grado di svilupparsi nel tempo, senza perdere le sue affascinanti caratteristiche organolettiche. Il Barolo di Ocigi Bersano ha un colore granato limpidissimo, con leggera sfumatura arancione, profuma di invitante e dolci aromi di ciliegia, cioccolato, lampone in confettura e spezie dolci. Sia il naso sia in bocca ricorda i piccoli frutti rossi e la frutta matura. Regala anche sulle suggestioni di rosa e viola. Il gusto è ricco e persistente, con tannini morbidi, con sentori armonizzati e note di violetta e frutta matura. Per degustarlo correttamente è importante servirlo alla giusta temperatura, fra i 16 e 18 gradi, e soprattutto nel giusto bicchiere, cioè a forma di tulipano. Un bicchiere che da una parte ha una base ampia che permette una corretta ossigenazione, dall'altra si restringe verso la sommità. Questo permette che gli aromi non vadano dispersi, ma che invece vadano proprio a concentrarsi verso la sommità e quindi questa forma ci permetterà meglio di carpire e di apprezzare gli aromi del nostro vino. Il Barolo è perfetto con i tagliolini al tartufo bianco, con carni branciate e cacciagione, carni rosce, secondi elaborati e anche formaggi stagionati. Il Barolo Bersano l'ho trovata nel nostro negozio del market di Lido delle Nazioni. Oppure siamo presenti anche su Amazon, al link qui sotto in descrizione. Un saluto e alla prossima presentazione. Un saluto e alla prossima presentazione.